Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo come andare a realizzare un book fotografico che ci può servire per una semplice cilla oppure da integrare a una tavola da dare al cliente per una maggiore comprensione. Il tutto all'interno di Revit senza dover passare di programma in programma per poter andare a impaginare con il cono visivo magari dove abbiamo scattato la fotografia il nostro progetto. Partiamo quindi con un progetto stupendo, un bellissimo quadrato che rappresenta appunto il nostro progetto dove vogliamo andare a inserire i nostri punti di vista. Per farlo quello che dobbiamo fare è andare su File, Nuovo e andiamo a creare una nuova famiglia di tipo dettaglio costruttivo elemento di dettaglio metrico, andiamo su Apri e una volta che la famiglia viene caricata andiamo a creare molto velocemente il nostro modello bidimensionale ovviamente, creiamo un rettangolo andiamo a creare, non lo so, un rettangolo di 30 cm di alto e largo mettiamo 120 cm poi le dimensioni le possiamo andare a modificare una volta che lo chiarichiamo nel nostro progetto in modo tale che questo vada a rappresentare magari la nostra fotocamera ora vado a creare quindi con il comando LEI linea il nostro obiettivo ora io non sarò mai preciso in ambito di questo video ma voi ovviamente potete creare il modello che più vi piace seleziono la linea, WM per copia speculare, secondo l'asse abbiamo creato la nostra bellissima immagine andiamo a creare la nostra famiglia innestata all'interno che è quella della scritta e creiamo una famiglia di simbolo di annotazione come annotazione generica metrica e questo è molto semplice dovremmo andare a creare una scritta cancelliamo anche questa annotazione rossa una scritta su crea testa etichetto la posizioniamo qui al centro e deve essere un comando da dare come numerazione della foto ora io già me lo sono creato un parametro condiviso ma se andiamo a fare aggiungere parametro vediamo che come parametro condiviso io ho già il mio gruppo di parametro famiglia e parametro numero foto torno indietro perché per crearlo è molto semplice andiamo su gestisci parametri condivisi possiamo sfogliare un nostro file di testo che già abbiamo oppure appunto crearne uno nuovo e una volta che l'abbiamo creato uno nuovo andiamo a creare un nuovo gruppo che ho qua chiamato appunto fotografia che ho già realizzato e all'interno un nuovo parametro numero foto questo parametro ha come proprietà disciplina comune e tipo di parametro testo ovvero quando vado a creare uno nuovo numero foto metto comune tipo di parametro non lunghezza ma testo molto semplice e do semplicemente ok fatto questo quindi torniamo a creare il nostro testo etichetta come nuovo parametro selezioniamo parametro condiviso questo è importante perché altrimenti non potremo richiamare nell'abogo il numero della fotografia quindi questo essendo un parametro che viene condiviso all'interno di un file esterno può essere richiamato all'interno del nostro abaco questo è ovviamente un'istanza noi andiamo a selezionare il tipo di parametro quindi parametro numero della foto ed è un testo viene già inserito automaticamente mi raccomando istanza deve essere altrimenti dovremo creare tante famiglie di fotocamere per quante foto abbiamo invece in questo caso il comando ci verrà applicato qui sulla barra di destra nel mio caso delle proprietà dell'elemento molto più comodo ovviamente una volta creato lo trasciniamo all'interno del parametro test etichetta il valore di esempio è non lo so lo chiamo 0 1 e il prefisso è numero puntato spazio lo applichiamo salviamo e questa è la nostra nostra stupenda etichetta vediamo se con il comando allinea la possiamo allineare no, non ci riusciamo quindi dovrebbe già stare al centro la lasciamo così modifica tipo per andare a modificare la grandezza del test lo duplichiamo creiamo 2 mm quindi diamo una dimensione del testo di 2 mm così un po' più piccolo e lo andiamo a caricare nel progetto della famiglia 1 quindi innestiamo questo questa testo etichetta all'interno testo di annotazione etichetta praticamente all'interno della nostra famiglia di elemento di dettaglio una volta caricato lo possiamo andare ad inserire dove meglio ci piace in questo caso è microscopico ma poi dovremo adattarlo all'interno del disegno poi vediamo come quindi per ora lasciamolo così andiamo a testo numero foto a crearci un parametro associarlo a questa famiglia in modo che quello possiamo richiamare all'interno del progetto cliccando su questo riquadro ne andiamo a creare uno nuovo è sempre ovviamente un parametro condiviso giustamente quindi non dobbiamo dare il nostro nome ma dobbiamo ricchiare sul parametro condiviso diamo ok è sempre qua un'istanza quindi praticamente noi andiamo a creare un parametro condiviso all'interno del nostro testo etichetta che viene richiamato nuovamente all'interno di questa famiglia in modo tale che poi venga ulteriormente richiamato all'interno del progetto diamo ok semplicemente fatto questo ora andiamo a salvare magari questa famiglia quindi clicchiamo sul salva saliamo quindi la famiglia con un nome di macchina fotografica carichiamola nel nostro bellissimo progetto della nostra sezione quadrata e una volta che la inseriamo infatti vedete che ora il punto di domanda perché ora dobbiamo dare il numero della foto è visto in modo corretto di dimensione magari lo mettiamo a quest'angolo diamo subito come numero foto numero magari la foto numero 1 ed essendo un elemento di dettaglio come possiamo vedere qua già come identità è presente l'immagine che possiamo caricare quindi noi andiamo a selezionare l'immagine che ora selezioniamo magari un'immagine che io utilizzo principalmente per i wallpaper quindi aggiungi wallpaper apriamo la prima immagine viene caricata diamo ok seleziono la mia macchina fotografica cs per creasimile con spazio posso anche ruotarla oppure semplicemente una volta che la posiziono premo RO per rotazione e la posso spostare come meglio mi piace do che è il numero della foto numero 2 magari gli posso dare anche il commento foto angolo esterno sinistro questo è dettaglio dettaglio crepa non so qualcosa di simile vado quindi qua a caricare l'altra immagine aggiungi prendiamo quest'altra immagine di quest'altro bellissimo paesaggio anzi questa è un'architettura fatto questo e fatte più foto che vogliamo inserire andiamo a crearci un abaco con il tasto destro su abaco quantità di tutto quantità di tutto andiamo sul nuovo abaco quantità e selezioniamo quella di elementi di dettaglio la chiamiamo abaco fotografie chiamo ok andiamo ad inserire il numero della foto ovviamente l'immagine e inseriamo a questo punto anche i commenti chiamo ok ora vediamo il nostro abaco però ovviamente manca qualcosa manca le vere immagini ma non è un problema perché questo il nome in questo caso dell'immagine viene sostituito dall'immagine stessa una volta che la mettiamo in tavola per vedere subito come funziona andiamo a creare una nuova tavola a zero metrico va benissimo trasciniamo il nostro bel piano terra il nostro progetto da Pritzker Price scaliamolo magari al 50 una volta che abbiamo il nostro bel progetto possiamo andare ad inserire il nostro abaco delle fotografie che verrà caricato in modo corretto bene spero che il video ti sia piaciuto ricordati di iscriverti al canale se non sei iscritto di lasciare un mi piace se il video ovviamente ti è piaciuto noi ci vediamo al prossimo video e soprattutto attiva la campanella per rimanere aggiornato ciao e alla prossima ciao